amici cicloturismo ben ritrovati sul nostro canale oggi siamo qui per presentarvi la park free k99 una bicicletta versatile e aerodinamica allo stesso tempo k99 è un telaio dell'azienda toscana che mira ad assecondare le esigenze e le richieste di chi pedala con delle età di competizione è un telaio che nasce per le alte velocità ma che si muove egregiamente su tutti i terreni il telaio è in carbonio monoscocca ud t700 di ultima generazione ed ha il passaggio cavi totalmente integrato al suo interno k99 è prodotto esclusivamente per la versione disco ed è dotato di geometrie e linee che sono frutto di uno studio approfondito e curato nei minimi dettagli lo scopo è rendere efficiente il rapporto ricidità comfort con una bici che sia allo stesso tempo reattiva ma che risulti comoda e adatta anche a percorrere lunghe distanze uno dei prodotti di punta del di casa park free ed ha conquistato davvero un ottimo successo la versione da noi riprovata è montata con manubrio data la nera un manubrio che non ha bisogno di presentazioni e che permette di avere il massimo a livello di integrazione ed efficienza aerodinamica lo sram rival a xs è un ottimo prodotto dotato da di buone prestazioni e una grande affidabilità il pacco pignoni 1033 con in accoppiata con la guarnitura anteriore con corone da 48 e 35 denti permette di affrontare anche le asperità più impegnative e offre un rapporto per per tutte le esigenze le ruote sono di idee elementi e sono equipaggiate e montate con ruota con coperture vittoria corsa una sella san marco short fit che offre un buon grado di supporto e si adatta bene alla seduta del ciclista il telaio è disponibile in sei taglie diverse colorazioni e è dotato di un buon peso parliamo di 970 grammi circa in taglia m per maggiori dettagli e tutte le informazioni complete sul nostro collaudo vi rimandiamo al prossimo numero in edicola di cicloturismo